E questo, firmato dal maestro Bellugi, è il testamento che noi invieremo a tutti i direttori del conservatorio per continuare e proseguire in questo meraviglioso progetto. Grazie a tutti e... In un paese dove si chiudono orchestre, dove si parla sempre di degrado culturale, questa è la risposta. Non dobbiamo deluderli. Grazie.